Siamo fuori dal Comune di Napoli dopo una riunione del Consiglio Comunale durata parecchie ore ma che ha portato a casa un risultato per noi molto importante, ossia l'approvazione della delibera 100 che è la delibera che prevede la possibilità di sanzionare tutti gli esercizi commerciali o dei gestori che richiedendo l'utilizzo del suo pubblico vengano però poi sanzionati nel momento in cui hanno dei lavoratori che sono trovati in condizioni di grigio o totalmente a nero. È un punto molto importante della nostra campagna che portiamo avanti ormai da un anno e mezzo ma non è neanche il punto di arrivo. Siamo pronti ad andare ancora oltre, a farsi che questa delibera diventi un protocollo di intesa anche con rispetto al dato del lavoro affinché ci sia una comunicazione efficace per renderla effettiva e soprattutto efficace al 100%. Quindi la dotta non si è ancora fermata, continuiamo ad andare avanti e sempre poter appoggiare.